Il progetto Loop, dopo una lunga fase di didattica a distanza e grazie alla stretta collaborazione che la scuola ha voluto confermare nonostante l'emergenza sanitaria, ha ripreso e concluso i lavori. Unico progetto che in totale sicurezza a Barletta, l'Istituto Garrone, è riuscito ad andare avanti nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Dopo il contest scatto allo scarto, Riusa e Crea con Loop, che dal 2 marzo ha ricevuto più di 100 proposte e si è concluso il 31 ottobre, ha preso il via alla seconda fase, cuore del progetto Loop, che vede protagonisti proprio i ragazzi. 35 studenti scelti con l'ausilio dei docenti che li accompagnano nel percorso di alternanza scuola-lavoro distribuiti in due classi, una dell'Iceo Artistico di Design e una dell'Istituto Professionale di Grafica. I ragazzi si sono ritrovati a parlare di economia circolare e sono stati formati dall'Associazione Scartoff. Questo progetto ha avuto diverse fasi e in questo momento siamo riusciti, nonostante tutte le difficoltà che il Covid ha comportato, siamo riusciti proprio a realizzare il cuore del nostro progetto, cioè far lavorare i ragazzi con le loro mani, con le loro idee, a realizzare gli eco-gadget e la guida al consumo responsabile e al riuso creativo. Nel corso della seconda fase, gli alunni del liceo artistico sono stati ospiti nel laboratorio di Scartoff, dove hanno realizzato e prototipato gli eco-gadget, dalla creazione di portachiavi, lampade e suotatasche, fino a oggetti molto innovativi e divertenti, tutto attraverso il riutilizzo di scarti aziendali messi a disposizione da 20 aziende partner che hanno contribuito con le loro donazioni a realizzare eco-gadget. Erano diffidenti, ma poi man mano che hanno iniziato a lavorare ci hanno preso gusto e hanno avuto la soddisfazione di poter vedere come poter far creare un oggetto, un gadget in questo caso aziendale, dagli scarti della stessa azienda. Mi sono occupato della realizzazione di alcuni tutorial dove appunto i ragazzi hanno messo le mani su fotocamere naturalmente digerizzate, però hanno potuto utilizzare comunque la strumentazione per realizzare un prodotto multimediale legato alla comunicazione di un'azienda del territorio. Buone pratiche come quelle promosse dal dirigente scolastico Antonio Di Viccaro. Vedere che nuove generazioni, e ci fa piacere tra l'altro incontrare persone che hanno calcato la nostra scena, perché Michela Rociala è stata una studentessa qualche anno addietro del nostro istituto, portare all'attenzione una sensibilità particolare nei confronti appunto dell'economia circolare, del rispetto dell'ambiente e quindi portare i nostri studenti ad acquisire questa sensibilità che è una delle valvole di sicurezza per il nostro pianeta. Una formazione continua passata per i laboratori di informazione e tecniche pittoriche, dove i ragazzi hanno ideato una guida al riuso e al consumo consapevole per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente, rebus, cruciverba e schede didattiche, tutto torna utile per portare l'utente finale ad apprendere in maniera ludica. Non è stato solo disegnare, ma in realtà loro hanno pianificato l'intera campagna, quindi pensare agli obiettivi, all'utente, al consumatore, hanno messo insieme una serie di cose che hanno capito che alla fine non è solo il disegno che conta, ma tutto ciò che c'è dietro a livello proprio di mercato. Grazie.